...semplici appunto, cioè suggerendo che questa mostra dovesse essere la più semplice possibile, la più sintetica possibile, sia per un motivo pratico, perché tutti coloro che detengono un'opera del Caravaggio, siano essi pubblici, enti pubblici o privati, se la tengono stretta, perché opere preziosissime, ambitissime, e quindi ottenere i prestiti è comunque cosa difficile, ma poi anche per un motivo, diciamo, ideale, culturale, intrinseco proprio al lavoro del Caravaggio. Il Caravaggio è un artista che comunque lo si voglia giudicare, piaccia o non piaccia, è un artista dell'essenziale, un artista della sintesi, senza dubbio, e quindi sembrava giusto che la mostra che lo dovesse rappresentare fosse all'altezza del suo stile, della sua concezione dell'arte, quindi una mostra sintetica, essenziale, e non fosse accompagnata da altre presenze. Ero stato stimolato, la presenza di altri artisti, ero stato stimolato da questa riflessione, da una semplice constatazione che, mostre sul Caravaggio ce ne sono state veramente tantissime, e ce ne saranno probabilmente tantissime, quindi l'intento di realizzare qualche cosa di diverso, di significativo, poteva essere onorato, a mio parere, in un modo semplice e paradossale, cioè proporre una mostra del Caravaggio che fosse una mostra del Caravaggio soltanto, perché in verità quasi non c'è stata una mostra sul Caravaggio dal dopoguerra, secondo dopoguerra dal 1945 a oggi, che non sia stata una mostra del Caravaggio sì, ma sempre con altre presenze. Tutti gli ordinatori di mostre caravaggesche hanno ritenuto di arricchire il panorama, sempre anche per le motivazioni che si è detto, con opere dei maestri, degli artisti da cui il Caravaggio ha tratto ispirazione nella sua gioventù, artisti lombardi soprattutto, poi artisti che hanno lavorato a Roma e a Napoli e in Sicilia, nel tempo del Caravaggio stesso, e opere di seguaci, che il Caravaggio ha avuto in grande numero. In effetti fu questa la filosofia che ispirò la prima grande mostra caravaggesca del dopoguerra, molto nota agli studiosi, un po' meno agli altri, che è la mostra che si tene nel 1951 a Milano, al Palazzo Reale. Questa mostra fu memorabile, fu organizzata anche questa da un comitato scientifico di altissimo livello dell'epoca, sotto la presidenza di Roberto Longhi, che era il più grande storico dell'arte italiana del tempo, ed era un somo studioso del Caravaggio. Questa mostra, di cui si conserva il catalogo, molto interessante, confrontato con i cataloghi di oggi, perché è esile, essenziale, dimostra molto bene che i Longhi e i suoi colleghi si sforzarono di creare un grandissimo contesto, con opere del Caravaggio, ma certamente anche con molte opere a lui attribuite, però in modo incerto, con opere di seguaci, con opere di artisti collaterali, tutte di grandissimo interesse. Io, per motivi anagrafici, diciamo, come tutti coloro che sono qui, non l'ho potuta vedere, però dal catalogo ho dedotto che fosse una mostra memorabile. Però era grandissima. Poi sono, dal 1951 a oggi sono state tenute innumerevoli mostre. Questa che noi abbiamo proposto è molto sintetica, cioè non ha niente di collaterale. Il professor Paolucci, il presidente del comitato scientifico, che ha, diciamo, approvato la mia proposta e ha consentito che venisse attuata, ha definito questa mostra una sorta di marcia trionfale. In effetti è un po' questo l'intento, cioè mostrare con molta semplicità questo maestro. Come? Ecco, il come è un po' il discrimine, perché se no il discorso è troppo facile. Uno prende tutte le opere sicure del Caravaggio, che, come avrete letto, come saprete, sono una sessantina, oggi come oggi, nel mondo, tra Roma, Napoli, Milano, ma anche l'estero, gli studiosi, gli specialisti del Caravaggio, oggi come oggi, accreditano una sessantina di opere come sicure del maestro. Poi ce n'è una miriade attribuite. Allora noi abbiamo pensato, quelle attribuite no, non le mettiamo. cerchiamo di dare al visitatore l'immagine più veridica possibile. Prendiamo quelle opere prestabili, perché alcune che io desideravo purtroppo non erano prestabili, e quindi lì si è dovuto rinunciare. Quelle prestabili però prendiamo le vere, sicure. Come si fa a dire che è sicura un'opera del Caravaggio, come di qualunque artista? Beh, diciamo sulla base di documenti, testimonianze bibliografiche antiche, il più antiche possibile, quindi il più vicine possibili al maestro, testimonianze di contemporanei che lo hanno visto e citano quelle determinate opere, e potremo aggiungere noi anche opere di cui ci sono i contratti conservati, e poi quelle firmate. Quelle firmate però è una sola come quasi tutti gli appassionati sanno, delle opere conservate il Caravaggio ne firmò una sola e poi tra l'altro nemmeno la firmò. È una firma paradossale. E mi permetto di ricordarlo per chi non lo avesse presente, è la decollazione del Battista che si trova nell'oratorio di San Giovanni annesso alla co-cattedrale, così si definisce di Malta, dell'isola di Malta, anzi di Valletta, capitale attuale dell'isola di Malta, dell'isola principale. È una somma opera, noi abbiamo tentato di chiedere nel prestito che è stato rifiutato, è un'opera enorme, di grandissime dimensioni, eccetera, eccetera, ed è l'unica in cui gli studiosi hanno rintracciato la firma del Caravaggio che è fatta in quel modo singolare, lo ricordo, c'è il Battista sdraiato per terra, il carnefice che gli ha staccato la testa, anche se non l'ha divelta totalmente, e dalla testa schizza il sangue, ovviamente, il sangue cade sul terreno, la testa del Battista è già appoggiata sul terreno e cadendo prende forma di firma e c'è scritto Fra Michelan, poi le ultime lettere non, si chiamava Michelangelo Merisi, Fra Michelangelo perché era confratello dell'ordine di Malta, quindi poteva firmarsi come Fra, frate. Incredibile, no? Un artista noto per le sue avventure, per essere stato lui stesso un omicida, un trasgressivo, che l'unica firma che mette è frate, fratello. Poi, chi conosce la biografia del Caravaggio sa bene che fu poi cacciato subito dall'ordine di Malta e combinò subito dei guai, era tipico del Caravaggio, tipico della sua vita, quella di conquistare delle posizioni grazie al suo valore, in dubbio e indiscusso, perché anche coloro che nel corso della vita lo hanno contrastato, lo hanno diffamato, hanno lasciato testimonianze anche ignobili su di lui, su di lui come personalità morale, come uomo tra gli uomini. Beh, perfino questi, sempre tutti aborigine. Dal primo testimone che noi abbiamo del Caravaggio, il pittore fiammingo Karel Van Mander, il primo testimone in assoluto, il primo che scrive, è una testimonianza commovente, veramente di grande interesse storico. Karel Van Mander, apro una parentesi di un attimo, era un pittore studioso, era un pittore notevole, disegnatore, che visitò, uno dei tanti che visitarono Roma all'inizio del Seicento. non è strano, non è strano, che Roma fosse visitata da personalità straniere in ogni campo del sapere, negli anni che vanno dal giubileo 1600 al 1610 circa, proprio gli anni dell'attività del Caravaggio. Caravaggio è morto nel 1610. Si verificava in quel tempo la fuga dei cervelli all'incontrario, cioè i grandi ingegni sperimentati in vari campi, la biologia, la zoologia, la fisica, la chimica, l'arte, la pittura, la musica, la letteratura, la politica, l'economia, formatisi nei Paesi Bassi, in Inghilterra e Spagna, in Francia, o dove sia, ambivano di venire a Roma, questo cenacolo, questa città, conflittuale e grave, come vita sociale, Caravaggio ne fu una vittima evidente, ma non certo l'unica, tutti gli artisti del tempo sono noti per essere stati attaccabriche, personalità violente, sempre in tribunale, non faceva eccezione, ma c'era questo grande fervore, tutti gli studiosi ricordano sempre come nell'anno 1603, quando il Caravaggio è all'apice della gloria di artista, uno sparuto gruppetto di giovanissimi italiani e stranieri fonda un'accademia privata, una piccola accademia privata, che sarà la futura accademia dei lincei, è un dato su cui gli storici si sono sempre soffermati, l'accademia dei lincei nasce in un momento in cui Roma è anche una città violenta, una città difficilissima, tre anni prima, appena tre anni prima, c'era stato il rogo di Giordano Bruno, ecco, questo per dare un'idea della situazione, rogo a cui certamente il Caravaggio assistette, era lì, lavorava. Nello stesso anno, quando questi giovani di cui vi parlavo, il più eminente dei quali è Federico Cesi, è quel grandissimo, incredibile, studioso, un uomo dalla mente einsteiniana, vorrei dire, cioè un ricercatore proiettato nel futuro, uno dei primi a sostenere la necessità di uno studio parallelo della zoologia e della biologia, insomma, cose che forse non... in una città dominata dal Papa che appunto, non dico il Papa in persona, ma insomma da una curia che mandava sul rogo Giordano Bruno, con l'assistenza appunto di grandi studiosi, soprattutto provenienti dai Paesi Bassi, crea a questa scuola, a questa accademia, no? Che lascerà un segno in tutto il mondo, civilizzato, nei secoli successivi. Nello stesso anno, negli stessi mesi, uno dei tanti maestri che frequentano Roma, Karel Van Mander, dall'Olanda, dai Paesi Bassi, si trova a Roma, non si interessa di scienza, non sa nulla probabilmente di quello che sta accadendo in quel campo, ma si interessa ad arte e studia, studia l'attività degli artisti romani che sono i migliori del mondo e quindi li descrive e tiene un diario, quindi è una testimonianza viva, palpitante e quindi indispensabile per gli storici. E dice che a Roma ci sono tanti pittori più che bravi di tutti e c'è il Federico Zuccari che è un maestro diciamo e c'è Annibale Carracci di fronte a cui tutto il mondo si inchina e Cristoforo Roncalli detto il pomarancio un disegnatore e un artista di grande lena, di grande animo, è vero, e c'è e tanti, adesso io ne cito alcuni ma l'elenco non finirebbe mai. Però dice c'è uno che si chiama Michelangelo Merisi da Caravaggio e lui avvalora l'ipotesi che poi è durata per secoli cioè che Michelangelo Merisi fosse nato in questo bellissimo paese del Bergamasco Caravaggio invece poi sono stati scoperti i documenti è nato a Milano nacque a Milano e visse sempre a Milano prima di venire a Roma almeno così sembra era qua a Milano nel 1571 il 29 settembre giorno di San Michele Arcangelo e così fu chiamato Michelangelo Michelangelo Merisi da una famiglia di buon livello sociale e culturale il padre Fermo Merisi era un uomo quasi della media nobiltà di provincia era servitore di camera del Marchese di Caravaggio era cioè una sorta di amministratore di un buon livello la mamma Lucia Aratori era anche la pare donna di ottimi costumi aveva avuto vari figli alcuni dei quali intrapresero la carriera ecclesiastica nel 1571 nasce Michelangelo e dunque e dunque milanese però già il Van Mander nel 1603 lo chiama Michelangelo Merisi da Caravaggio e dice questo uomo fa cose meravigliose tuttavia si comporta in modo insolito ed anomalo quando deve dipingere un quadro si mette lì nello studio sta un paio di settimane anche di più in effetti dipinge con un impegno sovraumano finito di lavorare non fa nulla e va in giro per la città con un servitore con la spada al fianco con il cane questa cosa stradiglia aveva un cane il cane barbone che cosa insolita insomma a quei tempi non si usava e lui faceva gli animali evidentemente cioè il cane va in giro con questo cane e perde tempo nel gioco delle carte proprio come lo immaginiamo noi nel ris continuo e litica con tutti è un tipo scontroso ma quando mette mano ai pennelli è divino è un artista divino non si comprende come sia a quel livello perché a vederlo in verità non si direbbe lo si direbbe per altri versi perché poi altre testimonianze dicono che coeve fanno capire che doveva essere una personalità molto attenta a alcuni dati di rapporto sociale per esempio pare fosse fosse molto elegante amava vestire molto bene ma anche qui con una contraddizione dice un altro scrittore dice è curioso il caravaggio veste con grande gusto e proprietà però una volta che si è messo addosso un vestito non se lo leva più finché non cade in pezzi non si capisce come si regola peraltro non è assistito si può capire che faccia una vita come dire scioperata perché non è assistito da una donna si ha rapporti con innumerevoli donne e molte delle quali appartengono alla prostituzione ma non gli si conosce veramente una fidanzata non si è mai sposato non si sa se abbia avuto figli è un uomo nello stesso anno 1603 e dico questi elementi perché sono elementi che hanno giocato a favore di una certa impostazione della mostra nello stesso anno 1603 noi non abbiamo soltanto la testimonianza di Karel Van Mander ma abbiamo la testimonianza del caravaggio in persona un'altra cosa sempre ricordata il caravaggio non ha scritto nulla non c'è una lettera non c'è niente quindi noi non possiamo dire nulla della personalità dell'uomo riflessa in una sua testimonianza diretta abbiamo però due testimonianze almeno di lui che parla una è il verbale del del tribunale dello stesso anno 1603 gli esperti sanno benissimo di che si tratta l'anno precedente il caravaggio anzi no nello stesso 1603 all'inizio dell'anno il caravaggio insieme con un gruppo di amici perché viveva in una conventicola di amici che però la storiografia moderna non identifica molto bene per esempio ci sono delle stranezze i documenti ce lo dicono ad esempio i documenti ci dicono che soleva andare sempre in giro e combinare scherzi o anche cose con un collega pittore e quindi questo sarebbe interessante per noi storici ma la cosa interessante è che questo collega pittore noi ne sappiamo nome e cognome e basta non c'è una sola opera conservata una sola testimonianza un documento una traccia che ci faccia dire beh allora questo collega pittore ha fatto quella certa opera non si sa nulla si chiamava Filippo Trisegni è un nome senza volto ma era uno degli amici migliori va sempre con lui vanno insieme in trattoria delle liti è vero quando Caravaggio viene denunciato perché ha aggredito qualcuno ha tirato dei sassi addosso a un altro ha avuto una lite verbale è citato era con lui il noto Filippo Trisegni ma chi è? non lo sappiamo nel 1603 Filippo Trisegni e altri amici della comitiva diciamo così attaccano delle poesiole diffamatorie tipo le Pasquinate insomma che si usava molto a quel tempo non essendoci giornali contro un altro artista che si chiama Giovanni Baglione ed è un rivale del Caravaggio e queste poesie sono gravemente diffamatorie sono orribili come testo sono scritte male da persone chiaramente ignoranti che non sanno nemmeno combinare una rima dei versi eccetera eccetera e sono di un livello bassissimo paragonabile a quello che quotidianamente noi sentiamo nei nostri dibattiti è vero cioè si scende a un livello che fa pensare che effettivamente il Caravaggio vivesse in un ambiente da questo punto di vista mortificante il cognome Baglione fa rima con la parolaccia con cui si definiscono i testicoli diciamo dell'uomo e su questa brillantissima e spiritosissima idea vengono scritte queste poesiolle insomma questo ve lo dico per darvi l'idea il Baglione però ritenendo di essere stato gravemente danneggiato da questi attacchi ed era vero perché c'era un motivo profondo trascina in tribunale la conventicola di amici che lo ha diffamato e quindi Caravaggio va dal giudice e dice e so chi ha scritto queste poesie è Michelangelo Merisi da Caravaggio Orazio Gentileschi un amico suo ancora peggio di lui Filippo Trisegni un pittore un certo Longhi vero Onorio Longhi che sarebbe un sedicente architetto che gira col Caravaggio e li trascina tutti in tribunale in effetti i verbali di questo processo sono conservati si trovano all'archivio di Stato di Roma e pochi giorni fa il direttore dell'archivio di Stato ha richiamato l'attenzione dell'amministrazione e degli studiosi sul fatto che le carte sono gravemente danneggiate e c'è il rischio che questo documento che è composto di molte carte perché tutti sappiamo che è un processo sempre oppure a quei tempi se non aveva almeno 10.000 pagine non sembrava serio e si corre il rischio che si perdano e il processo non è interessante per l'argomento è un argomento banalissimo e il giudice dell'epoca ha lo stesso approccio di un giudice attuale cioè capisce benissimo che in sé il processo è una stupidaggine infatti dà delle condanne molto blande manda tutti a casa e li invita a non fargli perdere tempo che ci sono problemi ben più gravi della poesiolla diffamatoria ma la cosa meravigliosa è che il giudice interroga gli artisti interroga Orazio Gentileschi interroga Caravaggio interroga il Baglione interroga Filippo Trisegni e altri e noi quindi sappiamo cosa hanno detto queste persone naturalmente chiunque chiunque ha partecipato a un processo è stato testimone o inquisito sa benissimo che ciò che è scritto al verbale del processo non è esattamente le parole che sono state pronunciate di solito il giudice interroga il testimone o il il presunto re o dice allora sei stato tu hai ucciso veramente tu la fidanzata così hai portato il coet e quello parla un'ora no? dice no ma sì no no l'ho uccisa però non la volevo uccidere perché eccetera eccetera l'impulso l'ho trovata mi tradiva e poi fa un lungo discorso e alla fine del quale il giudice dice al cancelliere scriva confesso la mia colpevolezza di solito funziona così e quindi ciò che il Caravaggio ha detto è naturalmente quello che il giudice dice al cancelliere di scrivere ma resta lo stesso impressionante ciò che il Caravaggio dice di se stesso e questo apre un altro spiraglio molto interessante per noi ordinatori di una mostra cioè abbiamo pensato cerchiamo di ordinare le opere come le avrebbe ordinate lui e come le avrebbe ordinate lui sulla base dei suoi convincimenti i suoi principi ma quali sono i suoi convincimenti i suoi principi è bene ricordarne io voglio permettermi di ricordare qui in questo consesso due aspetti soltanto che hanno guidato un poco la mostra la scelta delle opere e anche gli accostamenti delle opere medesime la prima appunto è la testimonianza del Caravaggio il giudice gli chiede se è stato lui a diffondere quelle poesie infamanti sul conto del collega il Caravaggio dice che sì è stato lui e non è stato lui in realtà le poesie le hanno scritte gli amici lui comunque dice resta il fatto che colpevole in qualche modo lo sono perché io il baglione quello che li ha portati in tribuna lo disprezzo per me il baglione li inveisce contro il baglione e lui dice ma perché ti ha fatto sto baglione dimmi un po' ci sono cose personali no dice lui e questa è la cosa interessante no 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 personale no è che io lo disprezzo perché non è non è un non è un vero pittore è uno scemo che non sa dipingere come dice che vuol dire appena appena presentato qui vicino alla chiesa del Gesù chiesa importantissima un'opera importantissima la resurrezione di Cristo è vero e il Caravaggio dice ma lei l'ha vista ma no dice no ho da fare in tribunale poi c'è la resurrezione di Cristo lei l'ha vista certo che l'ho vista dice lui io conosco tutte le opere di Roma e tutti i pittori conosco io bene e e se lei l'avesse vista signore giudice capirebbe cosa sto dicendo non ho mai visto una cosa più ridicola goffa non si può neanche guardare far ridere i polli è una nella chiesa del Gesù sacra all'arte è vero sacra all'arte non posso tollerare di vedere una schifezza che la togliessero cosa che accadde la resurrezione di Cristo del Baglione un olio su tela alto quasi sei metri da secoli è scomparso la maledizione del Caravaggio l'ha colpito veramente molti studiosi compresi il sottoscritto l'hanno cercata dicendo ma un quadro di sei metri largo tre scompare nel nulla dove è finito oggi nell'altare dove era la resurrezione del Baglione c'è una grande pala del Carlo Maratti un grande pittore del 600-700 che occupa lo spazio fu sostituita dove l'hanno mandata l'hanno bruciata non so è scomparsa quindi noi non possiamo verificare veramente se fosse così goffa e ridicola c'è un bozzetto all'uvro e anche un disegno è conservato il bozzetto e il disegno sono belli quindi sembrerebbe che la critica del Caravaggio sia proprio immotivata non è per niente goffo e ridicolo doveva essere un buon quadro ma il Caravaggio insiste e allora il giudice forse pensando ai posteri dice senta maestro lei è tanto famoso allora lei dice che il Baglione non è un buon pittore vabbè mi dice chi è un buon pittore allora cioè per capire un buon pittore chi è me lo spieghi lei visto che lei sa tutto e lui dice ma il buon pittore è quello che segue le cose naturali è vero e che ha sempre davanti a sé la verità dice il Baglione non capisce nulla non sa disegnare non sa dipingere non sa niente e poi non conosce nemmeno la realtà la guarda ma non la vede e allora il giudice gli dice allora mi dica un po' maestro chi sono i pittori bravi oggi e la cosa interessante è che lui li cita e cita tutti artisti che sono lontani da lui le mille miglia il Cavaliere d'Arpino Federico Zuccari Cristoforo Roncalli Annibale Garracci ma tutti i pittori il cui stile la cui impostazione è completamente diversa e allora il giudice dice ma vabbè non capisco ma allora ma lei alla fine ma veramente ritiene di poter giudicare così facilmente gli altri sì dice lui perché l'esercizio mio è di pittore non dice il mio mestiere è l'esercizio il giudice non capisce niente di quello che sta dicendo chiude si è fatto ormai tardi nella mattina dice va bene la seduta è tolta arrivederci grazie poi i giorni dopo interroga gli altri interroga Horacio Gentileschi di cui il Caravaggio ha detto che è suo conoscente interroga il baglione medesimo e altri poi c'è l'ultima udienza e il giudice chiede al Caravaggio va bene più o meno ho capito come stanno le cose dice ma mi pare che tu sei proprio un sodale stretto di questo Gentileschi che è noto per essere un attaccabrighe peggio di te un toscanaccio un caratteraccio insopportabile e anche pericoloso è pisano figuriamoci è vero ma il Caravaggio dice vi conoscete molto bene sì molto bene e siete amici e il Caravaggio dice ma io veramente su questa questione vorrei pronunciarmi perché amici non ne ho e con Gentileschi non parlo da tre anni allora il giudice resta sorpreso dice ma con chi parla questo qui questo è pazzo e allora lo manda via e finisce lì questa è una testimonianza il Caravaggio ha delle idee precisissime sull'arte sa pronunciare giudizi precisi perché coloro i quali egli ha detto nel processo essere i grandi artisti sono quelli che la storiografia moderna ha consacrato ha capito benissimo come stanno le cose conosce tutti perfettamente e non parla con nessuno è un isolato apparentemente ed è il fautore il portatore di un qualche cosa che non riesce a dialogare con nessuno l'altra testimonianza su cui sempre la nostra mostra in qualche modo si vuole sintonizzare è in diretta il più grande studioso del tempo di d'arte d'arte in generale l'Umberto Eco del 1600 era il marchese Vincenzo Giustiniani l'uomo che sapeva tutto e non solo sapeva tutto ma era ricchissimo quindi poteva avere tutto era anche una nobile figura umanamente parlando e un uomo dalle chiarissime idee politiche economiche e estetiche autore anche di numerosi scritti pregevolissimi conosciuto e profondo di musica di letteratura di pittura collezionista eccelso è lui che compra al Caravaggio l'amore vincitore oggi nei musei di Berlino uno dei quadri più belli di tutti i tempi vorremmo dire un emblema supremo opera somma non del Caravaggio della pittura universale esposto fortunatamente nella mostra e quindi visibile agli appassionati che lo possono confrontare con gli altri quadri adolescenziali del Caravaggio voi sapete che il Caravaggio segue un pochino un pochino la teoria di quegli artisti una teoria diciamo che si ritrova in vari secoli e in varie culture in cui il creatore l'artista creatore si sintonizza sull'età anagrafica dei suoi personaggi dei suoi cioè crea in rapporto alla propria età Caravaggio giovanissimo quasi adolescente riempie le sue opere di adolescenti arrivato a una maturità mette in scena personaggi giovani ma maturi arrivato non alla vecchiaia perché è morto a 39 anni ma diciamo arrivato alla fase finale della sua parabola mette in scena persone se non altro profondamente segnate dall'età è una specie di Nanni Moretti potremmo dire uno che quando ha 30 anni fa il film sui trentenni quando ne ha 40 li fa sui quarantenni quando ne ha 50 ne fa sui cinquantenni una specie però perché di Nanni Moretti non ha certo però il difetto cioè appunto quello di essere sempre autorappresentante si nell'opera d'arte eseguita no lui ha una componente se mi si passa a questo paragone cinematografico ha una componente alla Nanni Moretti ma anche una componente alla Federico Fellini vale a dire il poeta universale che guarda si col filtro della propria età anagrafica ma poi ingloba tutto come dire mentre è ovvio che Nanni Moretti ha girato Ecce e Bombo quando era un ragazzo perché è un film di ragazzi sia pure di grande maturità mentale non è questo il punto non è così ovvio che Federico Fellini ha girato La dolce vita quando aveva 30 anni questo non mi pare così evidente anzi forse qualcuno si potrebbe stupire perché quella è un'opera che va dalla nascita alla morte che spazia dalle incertezze e i balbettamenti adolescenziali addirittura alle proiezioni metafisiche di menti che arrivano al suicidio arrivano all'annientamento di sé arrivano all'uscita addirittura dal tempo storico in cui incombono Caravaggio ha avuto l'uno e l'altro ma non c'è dubbio che la fase dell'adolescenziale esiste in qualche modo ma certo con un significato profondamente totalmente diverso dall'intenzionalità creativa diciamo di un anni Moretti con tutto il rispetto naturalmente per il grande regista il Marchese Giustiniani siamo partiti da lui compra l'amore vincitore del Caravaggio che è un emblema appunto universale perché rappresenta un adolescente sulla incerta e ambigua e inquietante e soglia del passaggio dalla puerizia all'adolescenza medesima con tutte le implicazioni naturalmente sessuali contenute in questo fatto ma è nel contempo una sorta di filtro ovvero di allegoria di metafora universale del rapporto tra la creazione artistica e l'arte medesima l'angelo alato che entra in scena e preme quasi contro la superficie della tela quasi che volesse entrare direttamente nella scena in questa specie di misa nabim ride 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 verso coloro che lo guarderanno nei secoli a venire ride con una innovazione sconvolgente che mai nessun pittore aveva osato fare perché non era autorizzata la risata nell'arte pittorica non tanto perché non fosse una cosa seria ma perché la dimensione del ridere sprizzando felicità non sembrava congruente al tema figurativo che la pittura in sé e per sé incarna un argomento su cui molto si dibatteva all'epoca molto si dibatteva nella stessa identica ottica di cui parla Umberto Eco nel nome della rosa chi ha letto il famoso libro sa bene che questo libro è famoso pur cosa e lo si può criticare quanto si vuole si può biasimare Eco che poi ha scritto tanti libri noiosi e compagnia ma non si può negare la eccelsa intuizione del nome della rosa che è una una storia fantasiosa sul grande tema del tentativo di riscoprire è vero il testo aristotelico che parlerebbe del comico e per impedirne la scoperta si arriva all'omicidio beh non debbo raccontare la trama che presumo presumo ma è lo stesso identico tema che il marchese giustiniani si pone in effetti pone a Caravaggio e che Caravaggio fa e come mai ma perché perché l'epoca del marchese giustiniani è l'epoca del grande dibattito sulla rinascita del teatro antico e dell'estetica e dell'estetica e della poetica scusate di Aristotele che aveva attraversato tutto il 500 ben inteso ma che esplode negli ultimi anni del 500 nell'ambiente fiorentino guarda caso con Vincenzo Galilei e la camerata dei Bardi e Vincenzo Galilei si chiamava Galilei però quindi è lo zio in effetti del sommo scienziato Caravaggio era completamente immerso nel dibattito culturale speculativo che veniva dall'ambiente toscano dall'ambiente fiorentino lo era giustiniani lo era il cardinale del monte che è il suo mentore colui che lo accoglie in casa colui che gli fa fare i quadri adolescenziali e il marchese giustiniani scrive un trattato di pittura che è tutto ispirato al dibattito su cui Umberto Eco pure si è ispirato i due studiosi non lo sapevano reciprocamente ma vi posso garantire che è così la fonte è la stessa né più né meno insomma l'amor vincit omnia l'amore vincitore del Caravaggio è il nome della rosa del seicento insomma anche migliore perché si vede in cinque minuti mentre leggere quel mattone è vero ci vuole il tempo che ci vuole ebbene il marchese giustiniani traccia una teoresi molto interessante di cosa sia la pittura e a cosa serva perché tanto ci piaccia e perché ha un ruolo efficace ed efficiente nella vita sociale e dice e illustra i vari pittori del suo tempo fa una carrellata meravigliosa su cui anche noi oggi ci basiamo naturalmente arriva il Caravaggio dice il Caravaggio quello sì che è un pittore gli altri sono bravi anzi anzi dice con altre parole naturalmente non con quelle che sto per pronunciare io dice la verità essenziale dice in verità il Caravaggio non è un grande pittore è bravo ma ce n'è altri e forse è anche meglio di lui ma è il fatto che è un grande artista cosa che molti grandi pittori di oggi non sono per esempio il Cavaliere d'Arpino è un grande pittore però grande artista non direi perché vabbè alla fine si ha fatto tanti quadri sono molto belli sono importanti sono anche densi di contenuto ma l'impatto sociale e speculativo di un dipinto del Cavaliere d'Arpino sulla mia mente è dice Giustiniani è relativo anche Annibale Garraci tutto sommato che è tanto grande tanto dotto però invece il Caravaggio è un grande artista che fa anche il pittore ecco ma insomma le cose vere stanno così che si distingue da ogni altro e presumibilmente sarà adorato anche dai posteri perché anche i posteri capiranno quello che non si può spiegare fino in fondo ma che è vero che è un grande artista cioè la sua comunicazione è esclusivamente estetica fa il quadro perché deve comunicare in qualche modo no? dipingere però la pensa più o meno come Leonardo da Vinci e ricorda Leonardo da Vinci ricorda i principi di Leonardo da Vinci e le speculazioni di Leonardo da Vinci e ha ragione perché così dicendo ha detto tutto e ci ha dato la chiave della nostra mostra perché? ma perché l'unico vero discepolo di Leonardo da Vinci è Michelangelo Merisi da Caravaggio e come mai? perché era milanese è nato a Milano e ha studiato a Milano e a Milano ha avuto il migliore professore che forse si poteva avere in quei tempi Simone Peterzano un grande pittore non un grande artista anzi tutt'altro che un grande artista ma un grandissimo pittore Simone Peterzano aveva una bottega la scuola ha insegnato tutto al Caravaggio gli ha insegnato la pittura gli ha insegnato a capire l'arte la scuola di Simone Peterzano era a pochi passi da Santa Maria delle Grazie dove c'è il cenacolo di Leonardo da Vinci certo il cenacolo di Leonardo da Vinci era molto rovinato Caravaggio lo avrà visto per la prima volta nel 1581 82 83 erano passati 80 anni dall'esecuzione Leonardo da Vinci terminò il cenacolo quasi alla soglia del secolo 1499 1500 erano passati 80 anni e 30 anni prima che il Caravaggio lo vedesse probabilmente sicuramente con il suo maestro con Simone Peterzano che gli aveva spiegato e con un altro grande maestro che frequentava frequentava la scuola di Simone Peterzano Giovanni Paolo Lomazzo un nome oggi dimenticato ma grandissimo nella Milano del 500 sarà andato con questi sommi studiosi a vederlo e che cosa avrà visto? 30 anni prima era andato il Vasari a vederlo e lo racconta lo racconta lo scrive e dice è gran peccato è gran peccato che Leonardo fosse così intelligente era troppo intelligente perché a forza di sperimentare e di fare ecco qualche bel risultato sono andato a vedere il Cenacolo sembra una macchia avvampata sul muro testuale le vite del Vasari nel 1550 si vedeva male era tutto salnitrato poi lo fecero un primo restauro lo ripulirono Caravaggio lo vede forse meglio del Vasari un po' meglio ma certamente meglio di noi che vediamo una larva magistralmente diciamo restaurata vent'anni fa ma comunque una larva la meravigliosa natura morta che è sulla tavola la tovaglia dipinta da Leonardo da Vinci con tutte le pieghe e la composizione di Cristo con gli apostoli gli arazzetti appesi al muro dietro le finestre che si intravedono il paesaggio lontanante sullo sfondo ma quello Caravaggio l'avrà visto e è probabile che il maestro Lomazzo che era un grande dotto e che certo il Caravaggio doveva molto apprezzare e venerare gli avrà detto vedi figlio mio sto scrivendo un libro adesso speriamo di pubblicarlo presto ma mi ci vorrà chissà quanto tempo e poi e poi sono molto preoccupato gli avrà detto il Lomazzo perché l'affresco che non è un affresco quello è il cenacolo si vede male già da solo e male lo vedo io perché ho un gran disturbo di vista pensa io che sono pittore vedo male e temo che mi succeda qualche cosa quindi mi debbo sbrigare devo sbrigare perché sto scrivendo un libro importantissimo che sarà per voi giovani il viatico è vero il viatico e ci indovinò perché perché divenne cieco veramente e con una volontà di ferro completò l'opera e nel 1590 quando Caravaggio è ancora a Milano e sta per venire a Roma il libro esce viene pubblicato e si chiama l'idea del tempio della pittura un libro fondamentalissimo oggi nessuno lo legge più ma all'epoca e lì c'è una miriade di racconti di storie di citazioni l'omazzo era e certamente c'era l'aneddoto l'aneddoto famosissimo raccontato da Marco Dogiono uno degli allievi di Leonardo da Vinci quando Leonardo circonfuso di fama il genio universale va a Santa Maria delle Grazie a Milano e il rettore della chiesa dice adesso lei qui dipingerà l'ultima cena maestro l'opera che naturalmente consacrerà nei secoli l'opera più bella sicuramente la più bella data e Leonardo sta lì sta lì e va tutte le mattine tutte le mattine lì nella sala del cenacolo guarda osserva fa dei disegni medita profondamente e però nemmeno mette l'impalcatura e quindi dopo un mese due mesi il rettore sollece maestro vorremmo vedere l'opera che veramente nei secoli renderà glorioso questo luogo l'ultima cena di Leonardo da Vinci il massimo e lui dice certamente passano mesi e c'è Leonardo medita il rettore a un certo punto racconta Marco Dogiono dice ma maestro abbiamo qui il genio universale Milano a questa fortuna vorremmo vedere quando la fa l'ultima cena quest'opera meravigliosa c'è lì il muro è bianco ma vogliamo fare e lui gli disse ho finito e allora naturalmente il rettore dice ma ho finito cioè che cosa ho finito delinquente ti levo lo stipendio genio universale e lui disse beh ho capito uomo ignorante umile che non sai non sai nulla non conosci l'arte il sapere tu vuoi dire che ora devo dipingerla vabbè ma quello non ci vuole niente adesso lo faccio subito così ti faccio contento questo aneddoto celebre ai suoi tempi e poi un po' dimenticato Caravaggio l'avrà ben saputo e l'avrà ben capito sì l'arte è una cosa il mestiere del pittore è un altro si può fare bene male eccetera Michelangelo Merisi è un artista non è un pittore tanto è vero che quando arriva a Roma non fa nulla di pittore i pittori che facevano dipingevano andavano sui cantieri sulle imparcature gli affreschi facevano le cose facevano le grandi imprese entravano in una bottega in una squadra il più bravo giganteggiava il più piccolo faceva soltanto le decorazioni il Caravaggio non sapeva nemmeno cosa fosse un ciclo di affreschi si è detto non lo sapeva fare non lo sapeva fare ma il Caravaggio sapeva fare tutto altro che non sapeva fare l'affresco ma non aveva nessuna intenzione di fare il pittore di professione infatti incredibile ma vero arriva a Roma 21enne 22enne quindi nemmeno così piccolo e per molti anni non si conosce un'opera una anche piccola uno sputaggio niente un bel giorno i documenti dicono che è il 1597 e il suo grande protettore colui che lo tiene in casa sua l'uomo più ricco e più colto del mondo il cardinale Francesco Maria del Monte uno che può influenzare quello che vuole e che non gli ha procurato uno straccio di lavoro però non lo ha inserito in nessun cantiere forse perché è una persona onestissima non fa come i nostri adesso mi raccomando niente per carità caravaggio un'ottimista naturalmente era un uomo un tipico scienziato del suo tempo era cardinale ma insomma cardinale a modo suo e gli fa dipingere il soffitto dello studiolo che è piccolo è una stanzetta con la rappresentazione dei tre figli di Cronos simbolo della mutazione della materia alchemica sono tre figure mitologiche scorciate in alto di una bellezza e di una perfezione da lasciare ancora oggi il visitatore e noi incoraggiamo i visitatori della mostra mica lo potevamo mettere nella mostra è un olio su un muro sta attaccato ma grazie alla cortesia del principe e buon compagni noi incoraggiamo i visitatori andatelo a vedere dopo aver visto la mostra quello è il punto di partenza 1597 era nato nel 71 aveva già 26 anni tanti per un giovane esordiente e infatti l'opera è come ci è capitato di dire una minerva armata che esce dalla testa di Zeus perfetta Caravaggio ha già fatto tutto la sua prima opera è totale c'è tutto una perfezione sublime una materia pittorica di una morbidezza e di una grazia e di una forza incomparabili una composizione tumultuosa incomprensibile stranissima completamente fuori da tutto poi si possono ravvisare 10.000 riferimenti perché lui ha visto tutto conosce tutto il cardinale del monte è l'esponente della grande cultura toscana e a Roma in quel momento è ancora vivo e attivo il principe dei pittori toscani a Roma che oggi è dimenticato ma all'epoca sommo che si chiamava Jacopo Zucchi e Jacopo Zucchi era l'allievo del Vasari quello che aveva raccontato che è Leonardo da Vinci e il Vasari era il riferimento dei riferimenti era il più grande studioso prima del Lomazzo poi il Lomazzo lo aveva inglobato e Caravaggio riprende la pittura dello Zucchi perfetta non lo imita ma Zucchi era il numero uno lui lo rifà mille volte meglio 10.000 volte meglio il soffitto del camerino dello studio del cardinale del monte e tutta la carriera di Caravaggio ha già fatto tutto se si fermava lì andava bene lo stesso aveva già tutti i suonatori di liuto il banco degli uffizi i musicisti stanno tutti lì dopo li ha dipanati ha proseguito evidentemente il cardinale gli ha chiesto tanti quadri lui li ha fatti nel giro di pochi mesi di colpo una sparata di capolavori mostruosi mostruosi nel senso alto del termine cioè fa delle cose eccelse e del tutto inattese nessuno se l'aspettava allora noi nell'ordinare la mostra abbiamo usato questo criterio cioè quello di cercare di far vedere al al visitatore questo singolare iter di un artista che è veramente al di fuori della dialettica ordinaria del suo tempo e che intuisce con una proiezione di secoli addirittura che in un certo senso quello che deve arrivare all'osservatore non è tanto la pittura in sé bella quanto vuoi ma la potenza comunicativa del messaggio artistico è la stessa cosa ma no non è la stessa cosa tanto è vero che è poi il principio che giustifica le grandi mutazioni dell'arte contemporanea la disgregazione dei linguaggi l'uscita dalla verosimiglianza ma anche Caravaggio che viene presentato dagli storici come l'artista del vero non ha alcuna intenzione di proporre la verosimiglianza e gli propone la verità dell'idea estetica come dice Kant nella critica del giudizio che non non cita Caravaggio perché Kant non ci capiva niente di pittura ma e non conosceva il Caravaggio ma l'estetica si la conosceva sapeva quello che dice ecco perché oscuramente quasi tutti gli amanti dell'arte dicono ma Caravaggio sembra il nostro contemporaneo è tanto moderno che è una stupidaggine questa che il concetto del moderno non è un concetto non è niente non si è grandi perché si è moderni basta vivere un po' aspettare due tre secoli chi è moderno diventa antico e nessuno può sfuggire a questa legge quindi è inutile dire ah è moderno perché assomiglia a noi e noi a che titolo diciamo che siamo moderni perché ce lo diciamo tra di noi ma se questa conferenza verrà registrata e proiettata nel 3.010 dopo Cristo e qualcuno vedendola dirà ah vedi vedi quell'antico è studioso è vero di cui il cui nome è perduto perché non c'era non c'è la didascalia però anche gli antichi qualcosa capivano in fondo dice delle cose assurde e senza senso sbaglia la maggior parte delle cose che dice ma c'è qualcosa di interessante evidentemente anche gli antichi coltivavano degli studi e amavano il grande Caravaggio non capendolo ma lo amavano e anzi sento da questa conferenza che fu fatta una mostra nel 2010 di cui però non c'è più testimonianza nel 3.010 ne fanno un'altra e quindi trovano trovano il il questo antico filmato e noi saremo gli antichi ed è giusto così quindi anche loro diranno ma però il Caravaggio è moderno è veramente moderno perché proprio la pensa come noi ma non è vero niente la verità è che il Caravaggio persegue un principio estetico che effettivamente ha un respiro e una durata universale come lo persegue noi abbiamo organizzato la mostra dislocando le opere sulla base di questo pensiero di questa speculazione che può essere certamente sbagliata ma nulla o quasi nulla ho detto dei contenuti cioè questa questa posizione dell'artista che nella mostra dovrebbe risultare qual è poi in realtà che cosa dice il Caravaggio qual è poi questa comunicazione artistica che gli dà al di sopra della forma diretta e specifica dell'opera pittorica noi abbiamo cercato di suggerire una possibile lettura l'abbiamo fatto con dei pannelli proprio illustrativi che non vogliono essere didascalia o didattica ma vogliono essere suggerimento di possibili letture letture intese come interpretazioni perché non c'è dubbio che l'opera del Caravaggio va interpretata il grande artista deve essere interpretato se no fa un altro mestiere se deve soltanto dipingere bene una figura ma allora appunto sarà un grande pittore il grande artista è colui il quale pone un tema estetico e il tema estetico bisogna come dice Aristotele come dice Umberto Eco cioè va interpretato quindi noi abbiamo dislocato le opere per costringere arrivo a dire costringere il visitatore a interpretare e a porsi in questa funzione investigativa diciamo così che sollecita quanto mai poi il gusto e sollecita quanto mai ad apprezzare la qualità pittorica del Caravaggio che è molto elevata suggerisco a tutti di meditare bene chi non l'avesse ancora fatto davanti al famoso suonatore di Liuto che viene dal museo dell'Ermitage e che appartiene al Cardinale del Monte il Cardinale del Monte glielo fece fare è un'opera in cui diciamo è già adombrato quello che a nostro avviso è il grande tema che poi il Caravaggio dipanerà per tutta la vita e cioè la misteriosa connessione tra l'edonismo questa dimensione apparentemente banale ma in realtà eletta della mente umana è l'etica è l'etica chi sa vivere e rappresentare la dimensione edonistica può saper vivere e rappresentare la dimensione etica l'etica intesa proprio come la ricerca la ricerca la speculazione sui grandi principi della vita quello che poi rende moderno l'artista che parla di cose che sempre dureranno cioè il bene il male l'amore l'attesa la delusione la speranza la frustrazione la morte questi sono gli argomenti del Caravaggio e si dipanano a partire da un presupposto di tipo edonistico altissimo che nel suonatore di Leuto rifulge e non ho bisogno certamente a personalità che hanno una loro cultura e una loro esperienza di impancarmi a spiegare cosa voglia dire la dimensione edonistica la dimensione edonistica è purtroppo profondamente mortificata dalla cultura dei nostri tempi questo fa un po' detto non c'è dubbio per esempio che la crescita di smisura di una determinata immagine televisiva pornografica e come posso dire anche giornalistica o dialogante non c'è dubbio che l'aumento vertiginoso del peso di questo tipo di comunicazione tende a uccidere la realtà della dimensione edonistica che invece è profondamente umana e profondamente presente nell'animo non solo degli uomini ma anche del mondo animale se andiamo a vedere è vegetale cosa che infatti il Caravaggio rappresenta che la la dimensione edonistica il Caravaggio la vede esattamente allo stesso modo nella rappresentazione di un uomo di una natura morta di un animale di un di un sasso per terra e infatti il Marchese Giustiniani nel suo libro dice una volta chiesi al Caravaggio il suo segreto e lui mi rispose così ma so fare un po' di tutto vede Marchese eccellenza io metto tanta manifattura nel dipingere delle foglie e dei fiori di quanta ne metto nel dipingere un'immagine umana e il il Marchese Giustiniani dice Caravaggio mi ha detto questa frase però non si capisce tanto bene che vuol dire cioè che sa dipingere bene un fiore e sa dipingere bene un viso si va bene e no il Caravaggio ha insegnato questo che tanta manifattura si mette in qualunque tipologia di rappresentazione perché il il tema è lo stesso cioè se io rappresento la natura morta dell'Ambrosiana quel sacro dipinto sacro all'arte la cosiddetta fiscella che non a caso abbiamo usato come immagine traino perché essendo il tema fondamentale del Caravaggio appunto la vita in sé perché poi la il la dialettica tra la dimensione edonistica e quella e quella etica cioè che cosa ha come presupposto il vivente la dimensione del vivere quello che spesso viene ricordato anche in sede religiosa è la vita è la vita in sé quella che va rispettata dicono spesso i religiosi ma su questo principio però fu anche fatto il rogo di Giordano Bruno quindi ecco che il Caravaggio probabilmente ha avuto qualche perplessità nell'aderire completamente al dettato della Chiesa ma il principio sì è la vita in sé che contiene entrambe le dimensioni quella edonistica che è il piacere del vivere e quella etica che è la verità il vero e quindi la giustizia e quindi il bene cosa certo non ce lo siamo inventati noi beh la fiscella dell'ambrosiana è questo è la rappresentazione della vita nel suo stato più puro e già minacciato dal degrado è vero che incombe e che avanza verso lo spettatore e che si nutre di quella dimensione geometrica della sfericità della della chiusura nell'uno che è uno dei principi sovrani di questa disciplina e infatti e infatti la nostra mostra segue questo itinerario e lo capì molto bene il primo biografo di Caravaggio il quale pure ha scritto una cosa ambigua che non si capisce tanto bene e che spesso desta la riprovazione dei critici moderni voi sapete che la prima vita del Caravaggio fu scritta a Giulio Mancini Giulio Mancini era un medico senese un uomo molto in freno grandissima personalità dell'epoca era come il professor Veronesi oggi il grande medico l'uomo sapiente che sa tutto buono generoso ricco rispettato autorevole ecco autorevole e grandissimo amante dell'arte ma sul serio no non era un dilettante e Giulio Mancini ha scritto delle cose meravigliose d'arte l'ha visto Caravaggio l'ha visto l'ha conosciuto dopo un po' di anni dalla morte del Caravaggio ha scritto un trattato anche lui d'arte dove cerca di spiegare il Caravaggio ma questo Caravaggio veramente è eccellente dice questo pittore mi piace molto mi piacciono anche gli altri dove è l'eccellenza del Caravaggio dice una cosa in cui si vede lo scienziato e l'umanista insieme dice il Caravaggio riesce perfettamente quando dipinge una figura sola dice lì è veramente eccezionale perché nel dipingere una sola immagine è supremo super ognuno è un po' debole nella composizione quando va a fare delle scene con tanti personaggi cade un po' e poi non esprime bene il sentimento lì non mi soddisfa uno dice ma è pazzo invece ragionando abbiamo pensato che è esatto nel senso che Caravaggio in realtà dipinge una figura sempre dipinge sempre l'uno o lo fa proprio cioè una figura poi la frutta qualche cosa e quando fa le grandi composizioni affastella tutto una addosso all'altro cioè ha un horror vagui mentale non concepisce la composizione dislocata e narrante no deve fare la deposizione di Cristo per dire Cristo portato al sepolcro fa 5-6 figure una sopra l'altra tutte strette una sull'altra a triangolo che stringe tutto deve fare la che ne so la cattura di Cristo nell'orto mette tutte le figure allineate una sull'altra cioè in realtà fa un blocco solo sempre è l'artista che dice implicitamente all'osservatore guarda che tutto è uno in effetti questa dottrina non è tanto sbagliata e la ficella dell'ambrosiana è proprio un miracolo da questo punto di vista cioè è la cosa più semplice del mondo un canestro di vimini poggiato su un su un bordo viene un po' avanti sul bordo tutto pieno di di frutta con delle foglie di vite che escono fuori pieno 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 ma è praticamente una enunciazione metafisica della idea della unicità del 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 vivente in sé per sé e questo lui lo farà sempre lo farà sempre e non è un caso che il tema della vita e della morte della luce e dell'ombra che sono spesso compresenti e integrantesi come una specie di di caverna platonica dove l'origine di tutto è compattato e poi però c'è la divisione e le parti divise si cercano ma le parti divise sono la luce e l'ombra è evidente no? che cosa c'è al di là di questo? niente per l'appunto e quindi lui marca molto su questa dimensione il niente che incombe dietro all'unità dell'essere ma dice ma questo era tanto era tanto filosofo no non direi che fosse tanto filosofo il problema è la guida per noi cioè allestire una mostra vuol dire suggerire una modalità di visione alcuni studiosi hanno eccepito che questa mostra è un po' banale perché ci sono opere famosissime opere conosciutissime opere sicure non c'è il risultato di nuove ricerche hanno eccepito ed è vero entro certi limiti perché l'idea è quella di vedere qual è esattamente la ricerca del maestro attraverso un'opportuna sollecitazione del riscontro da un'opera all'altra è lecito sì perché Caravaggio usava lo specchio lo dicono le fonti non rappresenta quasi mai direttamente guardando ma rappresenta guardando l'immagine riflessa perché ma perché l'artista che non fa solo il pittore deve allontanare il reale non si deve avvicinare così tanto deve darti l'impressione che stai vicinissimo al reale ma lui per fare questo non lo deve fare che è sempre il principio sovrano dell'arte in qualunque forma la recitazione la musica la letteratura se vuoi dare veramente l'idea di ciò che pensi e di qualche cosa che poi apparirà profondamente vero all'osservatore devi fingere non la devi fare veramente l'attore che recita meravigliosamente è recita per l'appunto se fosse veramente vero quello che sta facendo probabilmente non renderebbe la verità dell'opera d'arte il pittore che vuole darti l'idea della realtà non la deve rappresentare perché come che cosa rappresenta allora no deve rappresentare l'idea del reale quello sì e in effetti la nostra dislocazione della mostra va in questa direzione a questo punto sarebbe molto bello poi parlare dei contenuti cioè ma questi quali del Caravaggio come sono che dicono sono belli sono brutti ma e questo naturalmente implica un discorso che le successive conferenze tenute in questo contesto andranno a toccare tanti argomenti tanti temi che ci sono nella mostra e ci sono nell'arte del Caravaggio qui l'intento era soltanto dare all'appassionato attento visitatore una suggestione che lo spinga a osservare con un occhio profondamente critico è vero questa mostra che indubbiamente è il frutto di una attenta meditazione da parte degli studiosi mio per primo devo dire perché l'ho un po' concepita io però in verità degli studiosi che si sono confrontati e si confrontano continuamente con questo tipo di indagine giustificata dalla immensa grandezza del maestro perché è ovvio che se così non fosse questi discorsi invece ci sembra di rendere giustizia a un artista di così alto profilo viaggiando con lui su delle strade di arduo impegno intellettuale ma anche di grandissima emotività emotività profonda che certamente il maestro ricercò e volle consegnare alla storia e a noi e a chi verrà dopo di noi grazie